Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di conversione analogico-digitale, un argomento estremamente importante per il quinto anno dell'Istituto Tecnico per poter affrontare in modo positivo quello che poi sarà l'esame di maturità. La convenzione analogico-digitale viene abbreviata col termine ADC e fa parte di quella che è la catena del sistema di acquisizione ed elaborazione dei segnali. Più precisamente abbiamo già visto in che cosa consiste la catena brevemente, vediamo dove si colloca, quindi si colloca fondamentalmente in coda quello che è il sample in old e quindi in coda quello che è il multiplexer analogico e prima del microprocessore, quindi serve appunto ad andare a convertire i segnali da analogici in digitale in modo da poterli elaborare. La conversione analogico-digitale è il processo alla base della digitalizzazione di un sistema analogico. L'onda continua di tensione del segnale analogico viene convertita in una serie discreta di valori digitali. Quindi questo è il simbolo del convertitore analogico-digitale, vedete che in ingresso c'è la WIN che è il segnale analogico di tensione, abbiamo poi la tensione di fondo scala VFS o VREF a seconda di dove lo trovate scritto in un modo o nell'altro e le uscite digitali che costituiscono un numero N, in questo caso ad esempio sono 8 bit. Abbiamo parlato appunto della tensione di riferimento o tensione di fondo scala. Questa è la tensione che serve per stabilire la massima tensione accettata dal convertitore analogico-digitale e alla WFS corrisponde il valore massimo, il valore N massimo in uscita. WFS viene impostata da quelle che sono le specifiche. Ad esempio, se io ho una tensione di fondo scala da 10 V e bit di uscita 8, si ha una variazione proporzionale della tensione di ingresso da 0 a 10 ovviamente e una corrispondente variazione digitale da 0 a 255 che sono appunto 2 alla 8. La quantizzazione. Allora parliamo di quantizzazione. La quantizzazione è il processo mediante il quale gli infiniti valori del segnale analogico, quindi il segnale analogico è continuo e ha infiniti valori, vengono ricondotti ad un insieme discreto di valori digitali. La quantizzazione si divide in fasi. Abbiamo per prima cosa la divisione del campo di valori che va da 0 a tensione di fondo scala nel numero definito di intervalli. Poi si va ad identificare l'intervallo più vicino alla WI in quel momento e poi si ha la conversione di WIN al valore associato a quell'intervallo. Ora detto a parole può sembrare non troppo chiaro. Vedremo più avanti in queste slide nel dettaglio e poi sicuramente con gli esempi numerici il tutto si chiarisce e con ci si chiarisce ulteriormente. Ecco qua l'esempio visivo che più graficamente è più chiaro. Allora lato è rappresentata la caratteristica di trasferimento della quantizzazione. Se vedete abbiamo sulle ascisse la tensione di ingresso che viene divisa in quelli che si chiamano passi di quantizzazione, quindi questi Q, Q, 2Q, 3Q, 4Q e così via e vedete che qua abbiamo la tensione di fondo scala. Il campo di variazione è suddiviso in otto intervalli in questo caso dove vediamo che viene fatto un esempio più semplice a 3 bit quindi 2 alla 3 avremo 8 intervalli a cui sono associati gli otto valori digitali che vanno da 0 0 0 a 1 1 1. Quindi vedete si prende la tensione di ingresso, la si divide in intervalli, in questo caso in otto, dopodiché si va ad associare ad esempio il segnale, le varie parti, i vari passi di quantizzazione e vedete che qua abbiamo tra un livello e l'altro il Q mezzi che poi rappresenta anche l'errore massimo che si può commettere perché se ricado in questa fascia qui avrò come uscita 0 0 1, se cado in questa avrò come tutto questo intervallo quindi che va da un ad esempio 5Q meno Q mezzi a 5Q più Q mezzi ricado in 1 0 1. qui sotto invece è rappresentato un grafico temporale della quantizzazione, vediamo appunto il campo di variazione da 0 a VFS diviso in 8 intervalli in questo caso. Il segnale è campionato a intervalli regolari, questi che vengono, sono in corrispondenza di un impulso di campionamento e a ciascun campione è associata la codifica digitale dell'intervallo di campionamento a cui essa appartiene, quindi vedete qua i vari, i vari, la varie codifica associate. L'ampiezza di ciascun intervallo di quantizzazione viene chiamato passo di quantizzazione o quanto e è proprio uguale a, si indica con Q ed è uguale alla tensione di fondo scala fratto 2 alla R alla R e alla N, dipende un attimino come lo potete trovare, dove R è il numero di bit, cioè la risoluzione. In questo caso appunto abbiamo che R è 3 e abbiamo 2 alla 3 che è 8 e quindi avremo 8 passi di quantizzazione. Ovviamente abbiamo che la risoluzione appunto dipende dal numero di bit utilizzati per la conversione, quanti più bit si utilizzano tanto maggiore è il potere risolutivo del convertitore. Vediamo alcuni esempi. Allora vediamo come funziona la quantizzazione. Innanzitutto diciamo che i convertitori commerciali realizzati con le tecnologie dei circuiti integrati sono a 8, 10, 12 e 16 bit, ma esistono poi anche con più bit in forme, però diciamo che i più diffusi sono questi. Abbiamo detto che quanto maggiore il numero delle letture effettuate, tanto più alta è la precisione con cui si possono misurare eventuali variazioni del segnale di ingresso e vediamo appunto qualche esempio. Supponiamo di avere una tensione di fondo scala di 18 volt. Se il convertitore è a 8 bit avremo che il passo di quantizzazione è 18 fratto 2 alla 8 e quindi avremo un 70,3 millivolt di passo di quantizzazione. Se il convertitore è a 10 bit avremo che Q è uguale a 18 fratto 2 alla 10 e quindi avremo 17,6 millivolt. Se il convertitore è a 12 bit avremo 18 fratto 2 alla 12 che viene 4,4 millivolt. Quindi vedete che più è alta la precisione, più è minore il passo di quantizzazione, quindi più sono i bit utilizzati e più alta è la precisione con cui posso appunto misurare la tensione di ingresso. Tempo di conversione. Allora ci sono dei requisiti temporali perché la conversione non è istantanea ma richiede un tempo di conversione che deve per forza essere minore di quello che è il tempo di campionamento. Quindi abbiamo appunto questo, il periodo di conversione deve essere il periodo, il tempo di conversione deve essere minore il tempo di campionamento. Inoltre la variazione che il segnale subisce durante la conversione deve rimanere confinata entro il quanto, altrimenti ho appunto un errore di conversione. Quindi a parità di tempo di conversione la condizione è tanto più difficile da assicurare quanto maggiore la velocità di variazione del segnale da convertire, cioè quanto maggiore è la sua frequenza. Quindi abbiamo queste due condizioni che abbiamo visto e che cos'è quindi il modulo sample and hold e perché si colloca appunto in questa posizione. Serve appunto nel caso non si riescano a soddisfare entrambe queste due condizioni, quindi che il tempo di conversione quindi non è minore al tempo di campionamento e o una variazione di tensione d'ingresso piuttosto veloce, quindi una frequenza alta, è necessario ricorrere a un dispositivo che lavora in due fasi chiamato sample and hold. Nella fase di campionamento il sample and hold preleva i campioni della tensione analogica, in istanti di tempo fra loro temporalmente distanti di campionamento, mentre nella fase di mantenimento il dispositivo mantiene l'onda stabile al valore campionato. In questo caso quindi si forma una forma d'onda appunto a gradini che evita le problematiche o gli errori precedentemente esposti. quindi anziché solo fare il campionamento in questo punto e poi per così dire perdere il valore quindi ciò che succede tra un intervallo di campionamento e l'altro può creare problemi, in questo caso il sample and hold mantiene fisso quel valore e appunto si ha il discorso di poter evitare di fare delle letture magari erronee o creare appunto delle problematiche dovuto al tempo di conversione. Il campionamento. Un segnale per essere ricostruito deve essere campionato ad una frequenza almeno doppia rispetto a quella massima del segnale. Questo è quello che dice il teorema di Shannon, che quindi abbiamo che la frequenza di campionamento maggiore o uguale a due volte quella che è la massima frequenza dell'armonica più significativa del segnale in ingresso. Oppure si può anche dire che il tempo di campionamento deve essere minore o uguale ovviamente dell'inverso della frequenza di campionamento. Quindi queste sono due condizioni indispensabili per poter ricostruire in modo corretto il segnale campionato. Gestione via software. Qui vedete l'interfaccia tra la DC e il microcontrollore. Il convertitore analogico digitale può essere gestito via software tramite un microcontrollore e l'interfaccia dei C microcontrollore permette di inviare gli opportuni controlli e prelevare dalle linee dati il dato digitale convertito. I tre segnali SOC, EOC e EOE creano un semplice protocollo di sincronizzazione. Quindi abbiamo questi che sono collegati poi al lato microcontrollore nelle porte input output del microcontrollore, abbiamo i biti di trasferimento e abbiamo appunto questi segnali di abilitazione dove il SOC mi decreta l'inizio della conversazione, l'EOC la fine della conversazione, mentre l'OE comanda alla DC di rendere fisicamente disponibili sulle sue uscite digitali il dato convertito. Qua vediamo appunto la sequenza delle operazioni a livello temporale, quindi il diagramma temporale della sincronizzazione e il diagramma di flusso associato. Quindi abbiamo prima di tutto il microcontrollore da avvia alla conversazione trasmettendo un impulso di inizio di conversazione tramite SOC alla DC. L'ADC ricevuto il comando porta a livello basso la linea EOC e quindi lo vedete qua negli vari step e inizia il processo di conversione. Nello step 2 il livello basso di EOC indica che la conversazione è in corso, quindi il microprocessore rimane in stato di attesa. Nello step 3 abbiamo la fine della conversione, che viene rilevata dal passaggio a livello alto della linea EOC. E lo step 4 a questo punto il microcontrollore, sapendo che la conversazione conclusa, porta alta la linea OE per leggere i dati attraverso la propria porta di input-output. Quindi questi sono i vari step a livello temporale. Bene, spero che questa lezione vi possa essere d'aiuto, di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!